di Sanremo. Per sottolineare la grande amicizia e l'affetto che Carlo Condi ha sempre dimostrato nei confronti della nostra città, non solo durante il Festival della Passione Italiana, ma anche nelle tante occasioni nel corso degli anni in cui è stato chiamato a condurre programmi RAI prodotti nella nostra città. Parlando di Sanremo non ha mai dimenticato di usare parole di apprezzamento sull'accoglienza, le bellezze e la peculiarità del nostro territorio. Un atteggiamento di vero amico di Sanremo che oggi vogliamo attestare con un riconoscimento ufficiale nella sede del Consiglio Comunale, massimo organo istituzionale della città, poiché rappresenta direttamente la volontà dei cittadini. Dunque oggi saremo a piacere e l'onore di avere un nuovo amico, sincero e leale. Carlo Condi. Allora, il nostro sindaco, prego.